12 dipendenti, tutti salernitani, già colleghi in una precedente esperienza lavorativa interrottasi in modo improvviso e traumatico. A Salerno il gruppo Majorano per la nuova apertura del suo store, il secondo in provincia, si è affidato proprio a lavoratori in lista di mobilità. Hanno già qualche capello bianco ma tante motivazioni e la voglia di rimettersi in gioco dopo aver vissuto sulla propria pelle i problemi legati alla crisi, alla disoccupazione. 12 dipendenti nello store di via San Leonardo, 1600 metri quadri di spazi espositivi e punto vendita per forniture elettriche ed elettroniche. Majorano per la terza volta cerca di espandersi a Salerno città con l'obiettivo, in caso di risultati di vendita positivi nel breve periodo, di potenziare la forza lavoro. È chiaro che il momento non è facile, non siamo usciti sicuramente dalla crisi, però l'azienda è un'azienda che ha voglia di crescere, ha voglia di investire. La provincia di Salerno e in modo particolare la città di Salerno per noi rappresenta una città importante. Abbiamo fatto questo investimento, riteniamo all'altezza di Salerno e abbiamo preso delle maestranze già esperte e specialiste del settore che sicuramente ci daranno la possibilità di farci conoscere la nostra offerta commerciale sul territorio. Voi avete garantito 12 posti di lavoro a persone che in un recente passato hanno vissuto la fase della crisi. Noi ci siamo rivolti a persone che purtroppo per loro stavano subendo un momento di difficoltà, persone che intorno ai 50 anni, quindi anche di un'età dove è difficile ricollocarsi. Abbiamo preso dalle liste di mobilità, sono tutti salernitani. Io voglio ribadire che su Salerno abbiamo un'altra filiale che ha battipaglia con altre 5 persone. Il nostro intendo è quello di crescere, quindi se le cose andranno come noi pensiamo e speriamo andranno, sicuramente ci sarà spazio per altri salernitani. Questo ce l'auguriamo e auguriamo chiaramente ai salernitani di poter entrare nel gruppo Majorano. Grazie.